Grazie Presidente, buongiorno. Io sono stato, in volte, chiamato il gatto, ma in queste sedute che si sono succedute. Quindi, per amore della verità, il suo concorduno da parte mia fare qualche precisazione. Sì, sguaggina l'amico, grazie a tutti, 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 grazie a tutti. 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 liberali superano 16 presenti. Ebbene, come dicevo, l'asta è il diritto di ogni consigliere comunale che si possa, praticamente, assedere su altri luoghi. Io ho quasi un obbligamento che credo che sia l'unico atto che sono certo di quella confusione che è accaduto, l'unico associato è solo che resta alla legislazione. E così, ad un certo punto, entra il consigliere Fudovico, attestando 16 presenti. Il consigliere Russo, però noi abbiamo anche nominato la commissione elettorale, procedo all'affetto per la votazione, intervento un po' di piccolo che chiedeva la parola. Guardi, consigliere Russo, stiamo in una procedura di voto, Fudovico, io procedo alla votazione, Fudovico, stiamo nella fase successiva, all'inizio della votare dopo. Questa registrazione attesta che erano 16 presenti e nessuno, perché stava, credo che lo posso spoggiare. Detto questo, io non riesco a comprendere quali siano queste necessità di occupare immediatamente le persone sulle istituzioni, la delibera che si poteva fare già non. Ma poi credo e non riesco a comprendere, l'atto non è un atto che è diventato perfetto, è un atto che poi abbiamo occupato, ma non è un atto pubblicato, ma di fatto inesistente, perché questo atto si fa perfezionato dopo che ci sta la pubblicazione sulla buonetà delle 10 giorni. Quindi noi stiamo parlando di un atto che allora deve esistirsi in una voce, diciamo che esiste, esiste, ma non è il prefetto, qui il nostro pubblico è educato, non puoi fare l'annullamento d'ufficio l'annullamento d'ufficio la procedura dell'annullamento d'ufficio è un contenimento agli stradini secondo franzo con il quale l'efficacia dei prattivi lascio il suo ritiro perché è a totale migliorazione della legge e io ho confermato poc'anzi che non ci sta ho iniziato l'accesso di potenti che è anche certo può essere arrivato all'ufficio pur sempre che su sistema delle ragioni di interesse quali sono le ragioni di interesse pubblico, di miei, quali sono? non lo so noi stiamo vediamo la questione politica guarda c'è il quale ci osserva noi ci ritiriamo i comprendimenti dei direttori dei voti che mentre ci sono maggio i problemi noi l'altro noi facciamo tre consigli con un altro una direzione che neanche hanno il potere per godare più da per emettere qualche valente perché non hanno potere se ne vogliamo nelle condizioni quindi sono solo tanti italiani che la corte dei conti prima o poi emetterà una presentenza l'elezione partiamo all'elezione dell'elezione politica l'elezione dell'elezione cughese è soltanto una testimonianza di una battaglia politica l'elezione dell'elezione cughese non ha manifestato più volte che la scuola espressione che si era tutta soltanto l'elezione dell'elezione cughese testimonia come non si può passare sulla propria testa come per i tanti giorni tra queste sposte